Come vi abbiamo annunciato la settimana scorsa, in questa puntata di Linea Mondo tratteremo il tema di come sono rappresentati e organizzati i nostri connazionali che vivono e lavorano all'estero. Abbiamo delimitato la questione, per meglio affrontarla, ai due maggiori partiti, il PDL e il PD. Nelle prossime puntate ci occuperemo di future libertà, della Lega, di IDV, della Sinistra, di SEL e dell'Italia dei Valori. In questa legislatura sono stati eletti sei deputati del PD e tre del PDL alla Camera, mentre sono stati eletti tre senatori del Povolo della Libertà e due del Partito Democratico. A Palazzo Madama, nelle file dei senatori eletti all'estero del PDL, è scoppiato, come vi ricorderete, il caso di Nicola Di Girolamo. Fu eletto con 25 mila preferenze, ma Raffaele Fantetti, il primo dei non eletti, nella ripartizione europea del Popolo di Europa, del Popolo della Libertà, contestò le elezioni. Fantetti sostenne che Di Girolamo non risultava all'atto della candidatura residente all'estero, come prevede la legge Tremaglia. Sul presupposto della mancanza di requisiti per le elezioni, il giudice per l'indagine preliminare del Tribunale di Roma scoprì che Di Girolamo era coinvolto in un riciclaggio di capitali dell'Andrangheta. Così il 15 luglio 2011 Di Girolamo fu condannato con patteggiamento a cinque anni di reclusione e alla restituzione di 4,2 milioni di euro. Il riepilogo di questo episodio è necessario perché è un caso su cui è necessario riflettere, sia per come i partiti scelgono i propri rappresentanti, sia per come viene rispettata la legge, la legge elettorale in questo caso. Il Partito Democratico ha un responsabile degli italiani nel mondo che è anche membro della direzione. Il PDL invece vive una curiosa condizione. Il senatore Esteban Caselli è stato nominato coordinatore responsabile degli italiani del mondo per il PDL l'11 novembre 2010. Da Berlusconi il 2 maggio del 2011 si è dimesso, ma il 6 luglio del 2011 è stato nominato consigliere per gli italiani nel mondo dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Allora però in carica, quindi un posto importante di responsabilità. Ma il prestigioso incarico sembra non sia stato sufficiente perché poco dopo il senatore dichiarò a Radio Tricolore un'emittente radiofonica argentina che non aveva più nulla che spartire con Berlusconi e con Alfano e di non fare più parte dello stesso partito. E allora la domanda, chi è il coordinatore degli italiani del mondo del PDL? L'avremmo chiesto volentieri al senatore Fantetti, ma dopo averci assicurato la sua presenza in trasmissione ha dato forfè per questioni di salute. E non siamo riusciti in verità, anche se ci siamo dati molto da fare, a rimpiazzarlo. Certo, Pasqua è alle porte e tutti ritornano a casa. Per nostra fortuna però abbiamo trovato il responsabile dell'ufficio stampa del PDL del Regno Unito. Dunque vi presento i nostri ospiti che tratteranno questo delicato argomento. Cominciamo con Eugenio Marino che è appunto il responsabile del Partito Democratico degli Italiani del mondo. Giuseppe Della Noce, direttore AISE, agenzia internazionale stampa estera. Collegato telefonicamente da Londra c'è Maurizio Morabito, responsabile ufficio stampa del PDL del Regno Unito. Via Skype c'è Anna Ruedberg, presidente del PDL Svizzero. Io a questo punto ovviamente la prima domanda spetta a Morabito. Morabito, mi sente? Sì, sento bene. Chi è il vostro coordinatore nazionale? Ce lo può spiegare? Ci tolga da queste ambasce? Guardi, quello che interessa in realtà sono quelle che sono le attività e quello che fanno gli italiani all'estero più che avere una figura o un'altra figura. Tanto i riferimenti ci sono. I parlamentari che sono all'estero non sono mica tanti. Noi anzi a Londra ne abbiamo addirittura due. Uno è il senatore Fantetti che ha nominato e l'altro l'onorevole Guglielmo picchia la Camera. Per cui io il riferimento ce l'ho. Tutti gli iscritti del PDL nel Regno Unito e in tutta Europa il riferimento ce l'hanno. Beh, lei ha scantonato, diciamo la verità. Non ha risposto alla domanda. Quindi capisco che vi trovate di capire. Non è importante avere un coordinatore. Non è importante avere un coordinatore. Noi il nostro coordinamento ce lo facciamo noi perché noi siamo molto molto attivi. Abbiamo fatto una serie di incontri adesso sono stati organizzati alla base. Altri incontri sono stati organizzati ai nostri parlamentari. Però mi dica la verità. La cosa è curiosa. Sarà pure non importante. Poi vedremo se è importante avere un coordinatore. Però la cosa è quantomeno curiosa. Tanto è vero che si è mosso addirittura. Quando servirà al tempo delle elezioni speriamo di averne uno. Va bene. Capiamo che... Il mondo è grande. Un coordinatore si deve occupare di intero pianeta. Io preferisco avere i miei parlamentari a cui posso chiamare. Sono molto disponibili. Io posso parlare per l'Europa. Poi magari sarà una cosa diversa se uno è più lontano. In Europa adesso i collegamenti, internet e il resto le cose sono molto semplici. Va bene. Abbiamo capito. Allora a questo punto devo coinvolgere Eugenio Marino che non è importante essere coordinatore degli italiani nel mondo. Come dice tanto ci si organizza in qualche modo. Questa è la posizione di Morabito. Lei che dice? Io non solo non sono d'accordo su questa affermazione. Penso che sia importante avere come in ogni organizzazione nella quale ci sono più persone un punto di riferimento che faccia la mediazione tra tutte le parti. Soprattutto quando parliamo di partiti grandi. Ma in quello che dice Morabito e in quello che penso io si sostanzia una differenza fondamentale che è tutta politica. Morabito diceva poco fa una cosa che io trovo molto importante sottolineare. Diceva poi quando arrivano le elezioni vedremo se quello è il momento importante. Se mi consente quello è il momento meno importante per l'organizzazione di un partito se non ha i fini elettorali. Non serve solo un capo quando si deve andare a raccogliere i voti. Serve una struttura che lavora sul territorio, su tutto il territorio, che stia vicino ai problemi degli italiani all'estero o degli italiani in genere. Per piacere Morabito se cominciamo a interromperci così in mezz'ora non andiamo da nessuna parte. Adesso le do la parola un'altra volta. Serve appunto una struttura che lavori tutto l'anno per tutti gli anni e che si avvicina agli italiani sempre. In questo il Partito Democratico ha sempre organizzato il suo lavoro, lo hanno fatto bene o male anche gli altri. Io le faccio una domanda. Lei è responsabile appunto di questo settore del partito. Si deve confrontare anche con gli altri partiti o no? Perché naturalmente, poi soprattutto in una fase come questa, in cui c'è una maggioranza, come si dice, ABC, anomala, particolare, PDL, PD, Casini, messi insieme. Quindi c'è bisogno di un rapporto continuo tra i vari partiti. Come fa il suo lavoro? Assolutamente sì. Io questo lo scrissi pure tempo fa in un articolo. Cioè il fatto che non ci sia un punto di riferimento formale del partito o che ci sia ma che non esercita o che non viene riconosciuto, insomma un po' come il re del piccolo principe. Questo è un danno non solo per gli altri partiti ma proprio per gli italiani all'estero. Perché faccio un esempio su tutti. Bisogna chiedere un incontro al sottosegretario Catricala, al presidente Monti, al ministro degli esteri, per discutere di questioni che riguardano gli italiani all'estero. Chi è titolato per ogni partito a rappresentare quel partito? Io non capisco perché. Ma rapido, se posso parlare lo faccio volentieri. Se no, ecco, do la parola a te, sto andando ad ascoltare. No, va bene, adesso finisca. Parla, lo sto ad ascoltare volentieri. Ma anche noi certamente lo ascoltiamo. Però concluda il suo ragionamento. Dico, se dobbiamo chiedere un incontro a qualcuno, se dobbiamo organizzare una riunione con dei punti di riferimento, chi coinvolgiamo? Per il Partito Democratico ce n'è uno, per la Lega ce n'è un altro, per Fli, Maio, Udc ce ne sono altri. Per il PDL è pure difficile perché se io vado a parlare con uno piuttosto che con l'altro, chi è quello che rappresenta tutto il partito. Certo, è chiaro. E soprattutto, durante, il Morabito dice, io in Europa va tutto bene, abbiamo picchi e fantetti. Perfetto. Ma gli italiani dell'America Latina hanno, diciamo, la stessa esigenza che a lui. A chi si rivolgono? A uno che è responsabile di un partito e dice di averne fondato un altro? E' chiarissimo. Il direttore della Noce ha appena pubblicato, tempo fa, un'intervista in cui Caselli si dice fondatore di un altro partito. Sì, infatti, ha fondato un altro partito. E a questo bisogna rispondere, Morabito, a queste... Certo, certo, se posso rispondere. Di tanto, chiedo scusa, non volevo mettere in difficoltà Marino, perché non voglio, il Partito Democratico faccia quello che vuole, non voglio, è chiaro che Marino dirà che è un posto importante, altrimenti che ci sarebbe a fare qui. Io posso dimostrare praticamente che noi stiamo vivendo una stagione estremamente proficua dentro il partito qui in Europa. Come ho detto, abbiamo passato un mazzo che è stato una serie di incontri uno dopo l'altro. Perché debba avere questa struttura ereditata da Roma? E' chiaro che sarebbe più comodo. E se uno si mette lì e riempie tutte le caselle, allora si metterà anche questo responsabile italiano del mondo. Ma posso dire che se vogliamo parlare di come sono organizzati i partiti all'estero, dobbiamo semplicemente, secondo me, partire da come sono organizzati i partiti all'estero, non da chi è questo referente a Roma. I referenti a Roma, come detto, ci sono. I parlamentari non sono quei tanti. I parlamentari, anzi, dopo la fronte, il Fli e tutto il resto. I parlamentari del PDL sono quelli. Se uno ha bisogno di confrontarsi con qualcosa, può andare tranquillamente a parlare con uno di loro. D'altronde, chi è che va a parlare con Catrica là? Non riesco a capire perché un rappresentante eletto debba invece essere messo da parte perché bisogna mettere prima questo rappresentante che è tutto sommato e nominato. Ma io, quello che succede nel Partito Democratico, non mi interessa in questo momento. Se è una cosa importante, se Marino ha una posizione importante, sono sicuro che è una posizione importante, che ce l'abbia. Io posso dire che noi nel PDL siamo riusciti e stiamo continuando a fare anche se non c'è una figura che viene nominata e che poi deve coprire l'intero pianeta. Va bene. Chiaro. Giuseppe Della Noce. Adesso io voglio... Io voglio riconoscere a buon abito tutte le motivazioni per questa sua diplomazia nel cercare di giustificare, tra virgolette, la non presenza di un responsabile del PDL all'estero, a livello internazionale. Lui dice noi abbiamo interlocutori a cui rivolgerci qui, soprattutto in Europa, abbiamo Fantetti e abbiamo Picchi. Ma io voglio chiedere a Moratti se Picchi e Fantetti hanno bisogno di chiedere un indirizzo politico, a chi si rivolgono oggi? Eh, risponda Morabito. Sta diventando un interrogatorio e poi... Non è un interrogatorio. Noi siamo curiosi. Lei sta devineando un partito che non c'è. Io spero che i rappresentanti eletti degli italiani all'estero, vista la lontananza, visto che loro sono lì a Roma, perché c'è bisogno di qualcuno a Roma, spero che abbiano tutti i contatti a livello del partito e a livello del governo e che possano fare il loro lavoro. Perché, di nuovo, perché bisognerebbe mettere davanti una persona che è stata nominata rispetto a una persona che viene eletta, questo non lo so, soprattutto perché quelli all'estero sono tutti eletti secondo le preferenze e quindi sono persone che si sa che hanno avuto una capacità di avere questo preferenze. Ma guardi che Caselli, Morabito, Caselli era stato, è eletto, è un senatore ed è stato nominato, ed era stato nominato coordinatore del PDL. Si è dimesso, ci sono degli altri, ma si è dimesso, poi qui sarebbe interessante andare a capire perché si è dimesso. Sì, comunque questo chiedetelo a Caselli, non chiederete... No, ma certo che non glielo chiede a lei, tanto lo sappiamo perché si è dimesso Caselli, ma è troppo lungo adesso, è troppo anche semplice. Sì, tanto, voglio dire, quello che andiamo a toccare con questo è il problema che la legge è fatta male, la legge, il voto di essere eletti, chi viene scelto e tutto il resto, non è certo nel migliore dei modi possibili. Su questo possiamo discutere, che poi succede che questi vengono e quelli cambiano di partito, non si sa bene cosa vogliono, cambiano idea all'ultimo momento, ma questo è un altro problema che riguarda la legge elettorale di per tutti gli italiani all'estero e non certo solo per quelli del PDL. Va bene. Anna Ruedberg, presidente del Partito Democratico, ha sentito un po' come... Morabido ha delineato una visione di partito, quasi leghista antelittera, un leghista che adesso non si sa più che roba è, però sembra quasi un discorso leghista europeo. Dica, mi ha sentito? Sì, che l'ho sentito. E allora? Devo dire che è un argomento molto importante, ma per noi, almeno per quello che è l'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi sei anni in Svizzera, ma soprattutto in Europa, il potere essere collegati, accompagnati, consigliati, messi in rete con una persona come quella di Eugenio Marino, poi ce ne erano altri precedentemente, ma anche con un'equip che aiuta, consiglia, in forma e praticamente lavora con noi per realizzare progetti interattivi, progetti ben organizzati non soltanto in Svizzera, ma anche in Europa, poi naturalmente noi siamo in Europa, la Svizzera poi è in Europa, non è in Europa, ma si può proiettare anche lo stesso programma e lo stesso progetto anche per gli altri paesi, come per esempio l'America del Nord e l'America del Sud, meno importanti, o voglio dire più lontani, l'Oceania e l'Africa del Sud, ma naturalmente l'esperienza nostra, lo dico personalmente, ma penso che sia anche quella del partito, del PD in Svizzera, è che questa forma di sostegno, di collaborazione, di rete... Insomma, per voi è necessaria? Posso fare una domanda alla dottorista? Che voglio dire, possiamo dire è indispensabile e necessaria, certamente se fossimo a Tumbuktu ci si dovrebbe arrangiare un po' il discorso che faceva il signore da Londra, certo che possiamo fare tutto, ma avere questo sostegno ci qualifica, garantisce un lavoro qualificato e soprattutto una diffusione importante di quello che è il partito del territorio, ma non soltanto del territorio svizzero, anche in Europa e poi nell'altro. Cioè è l'Oce che vuole farle una domanda. Dottoressa Redberg, le volevo chiedere questo, questa nuova Italia targata Monti vi sta facilitando nel fare i politici italiani all'estero? Dottoressa Redberg, in Svizzera, quello che è cambiato è che siamo più riconosciuti. Vede essere... io non so... ci conosciamo forse personalmente, ma non so se lei conosce l'estero. All'estero gli italiani negli ultimi anni siamo stati messi all'angolo, siamo stati messi in un ambiente, come dire, una specie di ghetto vergognoso, nel momento in cui è venuto Monti, dove è cambiata questa cosa, c'è stato, come le posso dire, la gente non ci guardava più negli occhi, adesso ci guarda negli occhi e in Svizzera poi c'è un rapporto molto complesso con gli italiani, si sentono tutti molto più alleggeriti nel riconoscere agli italiani quello che loro hanno sempre riconosciuto nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene. Bene, io voglio ricordare ai telespettatori che da oggi si può interagire con noi, cioè ci potete mandare delle domande a quest'indirizzo itimondo.it oppure collegandovi con i siti o di Italia Chiama Italia o con il portale L'Italiano. Se voi scrivete delle domande per avere delle risposte, noi cercheremo in qualche modo di Darvoli. Ancora, su Facebook, noi stiamo pubblicando su Facebook PD nel mondo il collegamento, voi potete trovare tutte le domande, le mail che ci state mandando e ci state spedendo. Fra un po' ve ne leggiamo qualcuna. Comunque, Marino, proprio ieri il senatore del PD Micheloni si è arrabbiato moltissimo, non ha votato la fiducia, diciamo si è astenuto, ma sa, al Senato quando si si astiene è come votare contro, la fiducia a Monti perché ha avuto parole di fuoco contro questo governo. A proposito, mi ricollego, sicuramente abbiamo conquistato credibilità, serietà eccetera, però questo Monti da come era partito, che sembrava tanto aperto nei confronti degli italiani all'estero, in realtà da un orecchio gli entrano e dall'altro gli escono le cose. Cioè il povero Micheloni tentava di dire non mettete l'Imu sulle prime case di italiani all'estero perché il governo le tassa come se fossero seconde case. Se invece le tassate come prima casa, naturalmente non se le devono affittare queste case eccetera eccetera, è meno penalizzante e comunque si mantiene il rapporto con l'Italia. Come si dice in gergo, da un orecchio gli è entrato e dall'altro gli uscì. E poi ha aggiunto Micheloni tutta una serie di cagliere di doleans su questo governo attaccando frontalmente Monti. Cosa sta succedendo? Sì, intanto volevo fare una battuta a Morabito, quindi se il responsabile per gli italiani all'estero non serve, io mi auguro che il PDL non lo nomini più, se ne faccia meno in futuro, per un fatto di coerenza appunto, perché poi non penso si discuta di importanza o no, si discute di luoghi democratici, di raccordo, dopodiché i partiti che hanno un responsabile, non è che hanno una persona che a Roma decide tutto, soprattutto nel mio caso, io da quando sono responsabile ho lavorato per dare maggiore autonomia, credibilità e strumenti alle organizzazioni sul territorio per fare politica in mezzo alla gente, da questa trasmissione ai notiziari di cui ogni tanto compare la mancette, alle strutture territoriali che organizzano iniziative, solo per citare l'anno che è passato, il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, in tutto il mondo sono state fatte celebrazioni, ricorrenze e sollevati problemi che riguardano gli italiani all'estero, che poi con un ruolo di raccordo a ogni livello del partito, compreso quello del responsabile nazionale, arrivano in Parlamento e diventano battaglie di tutto il partito e dei gruppi parlamentari. Quando il senatore Micheloni fa una dichiarazione come quella che ha fatto ieri e che lei ha citato... Più che una dichiarazione ha fatto proprio un intervento al Senato, 10 minuti. Esprime il malessere profondo. No, non solo il malessere, l'apice di un percorso di grande coerenza che non è il frutto del lavoro del solo responsabile nazionale, ma è il frutto di un lavoro che dura da anni, da prima che arrivassero gli eletti all'estero a 2006, alla scorsa legislatura, a questa, ed è un percorso di coerenza, perché il caso specifico che le citava, l'Imu, è l'ex ICI. Quando il governo Prodi diminuì l'ICI per le fasce più deboli, la diminuì anche gli italiani all'estero che quasi non la pagavano, considerando il governo Prodi, la casa degli italiani all'estero in Italia, prima casa. Quindi quello che oggi dice il senatore Micheloni è in perfetta coerenza con quello che il senatore Micheloni e il Partito Democratico hanno fatto quando erano governo, forza di governo e questa è una coerenza che non vedo riconoscere e non posso riconoscere il PDL, perché mentre dal responsabile nazionale Caselli agli altri senatori e deputati durante il governo Berlusconi votavano tutto quello che c'era da votare per la distruzione delle politiche che riguardano gli italiani all'estero, oggi si alzano e chiedono al governo Monti quello che loro hanno tolto quando erano al governo. Il senatore Micheloni non votava, come tutti i parlamentari del PD, la fiducia a quelle manovre distruttive del PDL e continuano a mantenere una certa coerenza e a fare delle battaglie nel territorio, in Parlamento e al Partito Nazionale. E questa è la differenza quasi antropologica, direi, tra sinistra e destra, tra PD e PDL e la loro organizzazione, che l'organizzazione è il frutto di l'usia politica. Ci dispiace molto che non c'è qui in istruzione. La verità, devo dire, ma non per correggere per carità Marino, che oggi anche Caselli ha votato contro. Esprimendo tutta la sua incoerenza, che quando era responsabile del PDL, forza di governo e consigliere del Presidente del Consiglio, lui tagliava tutti i fondi per gli italiani a destra. Morabito da Londra vuole intervenire su questa posizione. Morabito, a lei. Sì, sì, io spero che quando avremo un coordinatore per il PDL nel mondo il suo obiettivo principale non sia occuparsi dei partiti altrui. Comunque, prima abbiamo sentito che questo coordinamento dovrebbe servire a aiutare, a far portare queste istanze del partito. Io non penso che il Partito Democratico adesso voterà come Micheloni. Voglio anche dire che sono abbastanza sorpreso, perché io vi sto parlando, anzi vi volevo parlare di un partito come il PDL qui in Europa, che è fatto da un gruppo di persone che perdono il loro tempo a loro spese e vogliono aiutare e vogliono anche portare qualcosa indietro all'Italia. Invece voi questi comitati di base, dicevo quasi protoleghisti, voi invece volete contrapporre questa ricerca o quasi una specie di Soviet che ci vada a dire questa persona qui, questo coordinamento, bisogna usare questi meccanismi. Quello che voglio dire è che la settimana scorsa c'è stato l'onorevole Frattini qui e vorrà dire che, perché ci ha chiesto anche argomenti da portare alla prossima direzione, io dirò che per fare un piacere al Partito Democratico per favore che nomino qualcuno, magari nomineranno un cavallo come fece Caligola e così bene stare tranquilli e possiamo parlare di qualcos'altro. Alla fine anche sul problema di Monti, anche questa è una cosa gravissima il fatto che abbiamo il governo Monti e il fatto che sia tanto un popolare all'estero, che cosa ci dice? Alla prossima volta dobbiamo prenderci visto lo diverso, magari fra qualche anno Barack Obama sarà libero, facciamo nominare lui, primo ministro d'Italia, così tutti all'estero dicono come siete belli e come siete bravi, non è certo da questo che passa, non è certo da Monti che passa, poi il futuro, l'orgoglio italiano è il buon nome dell'Italia, noi sappiamo che tutti sanno che Monti ha commissariato l'Italia, che questo non è un governo eletto, questo è un governo che ha una maggioranza bulgara se non una maggioranza nordcoreana, tutte queste cose sono cose molto gravi, ci dovrebbero far riflettere, invece stiamo qui a pensare, faremo un favore, nominiamo, ci sarà qualcuno o qualche cavallo, nominiamo il cavallo che sarà il coordinatore del PDN all'estero, quello che noi stiamo facendo, a che evidentemente interessa meno, è quello è appunto far venire fuori e ora anzi fra poco faremo delle iniziative molto grandi a livello europeo, proprio per usare tutti gli strumenti che ci sono adesso, ora questa io mi immagino che dieci anni fa una trasmissione così non avremmo neanche pensato che potesse esistere, anche UDEM non so quanti anni ha ma non penso abbia dieci anni, tutte cose, anche i tuoi YouTube, questi collegamenti adesso vogliono dire che soprattutto se parliamo degli italiani che sono in Europa, possiamo cambiare anche il modo di pensare, possiamo dire che questi non sono italiani all'estero, lontani, questi italiani tu, sono italiani che possono contribuire a qualcosa l'Italia, italiani che possono anche avere qualcosa l'Italia. va bene, mi è arrivata, ci stanno arrivando moltissimi in verità, li stiamo scegliendo, da Pasquale Campolo di Monte Carlo, da Monte Carlo, una domanda proprio per la Presidente Rudeberg, Anna Rudeberg, non so se conosce o no questo connazionale Pasquale Campolo, comunque scrive, un senatore del suo partito andava dicendo che la riforma dei comités della CGE era la pietra filosofale per curare tutti i problemi degli italiani nel mondo e teneva bordone al sottosegretario Mantica, per questo il rinnovo degli organismi è stato rimandato per ben tre anni, non crede che sia ora di andare al più presto alle elezioni? Beh, una bella domanda. Sì, è una bella domanda. È una domanda bella, importante, la risposta è ovvia purtroppo, è la palissiana. Dopo sei anni di comités e di CGE, la gente e tutte le persone che si sono impegnate, perché sono quelle le persone che effettivamente sul territorio hanno lavorato in questi anni in maniera molto intensa, ma negli ultimi tre anni ci hanno di nuovo messi in una situazione di non poter lavorare, di non poter andare avanti e la generazione di chi è stato votato sei, sette anni fa, voglio dire ha già pagato il suo compito, il suo carico e l'ha fatto in maniera veramente quasi, non voglio dire eroica, ma sicuramente ha dato molto per ricevere molto dal territorio, ma poco, diciamo, poca riconoscenza dall'Italia e soprattutto poca riconoscenza nel senso che sono degli organismi e delle istituzioni che devono essere rinnovate. Dunque, si deve, bisogna, è necessario, è necessario. Prima possibile, aggiungo io. Un'altra domanda, questa volta a Eugenio Marino, che viene addirittura dall'Argentina, da Grazie Luisa Diaz, Gioia da Rosario Argentina. Dice questa signora, vorrei chiedere ad Eugenio Marino che ne pensa delle ipotesi di liste blindate all'estero. È davvero una possibilità? E lui sarebbe d'accordo? Ho letto l'articolo su Italia chiami Italia e devo dire che a me l'idea non piace affatto. parlano di mettere le preferenze in Italia e le tolgono a noi residenti all'estero. Questa è una cosa curiosa, in effetti, perché noi abbiamo in Italia, come giustamente dice questa signora, liste veramente bloccate sui partiti che sono le cime dei partiti che indicano chi deve entrare e chi non deve entrare. All'estero era rimasta l'unica possibilità di elezioni libere e qui sembra che stiano discutendo per riformare la legge in questo senso. Guardi, questo è l'ultimo argomento di cui penso si debba parlare, che quasi sta discutendo di una riforma costituzionale che supera il bicameralismo perfetto, che riduca il numero dei parlamentari, addirittura che riduca il numero dei parlamentari dalla circoscrizione estero. Allora io vorrei procedere per gradi e parlare di cose concrete. che stanno in campo, nel momento in cui si fa questa riforma, prima di tutto bisogna vedere dove sono collegati e quanti sono gli eletti all'estero, poi con quale sistema si vota, se si vota sempre con una legge proporzionale come quella che c'è adesso o con una legge maggioritaria, per cui siccome in Italia si parla anche di collegi, se faccio un'ipotesi per assurdo, che non è l'ipotesi che io auspico, vengono ridotti i parlamentari eletti all'estero. Si parla adesso di quattro senatori, sono uno per ogni ripartizione. Se le ripartizioni restano quattro e si vota con una legge come quella attuale, c'è un proporzionale, votiamo con un proporzionale ma in effetti è un maggioritario come lo è già in Australia. Allora in questo senso ci dobbiamo rompere la testa adesso se vale o no la preferenza. Sarà un collegio maggioritario, vediamo come si costruiscono le alleanze e quale sarà. Siamo arrivati alla fine ma io questa ve la devo coinvolgere che è arrivata un'email che fa la domanda a Morabito. Quindi a Morabito stia a sentire, viene da Mirko Castelli da Londra, dice, leggo sul vostro sito che alla trasmissione di Udeme parteciperà anche un portavoce del PDL Regno Unito. Che strano, io non sento parlare di PDL qui a Londra almeno dal 2008, ovvero dalle ultime elezioni politiche. Mi ha molto sorpresa la presente visita di Frattini ma se non avessi letto sul vostro giornale non avrei saputo. Qui non ne ha parlato nessuno. A lei la parola. Questo signore può sicuramente, se usa email, pulsare anche Google e il resto. La nostra presenza, noi abbiamo avuto per esempio il sindaco Alemanno qualche anno fa e abbiamo avuto ora un incontro con il sindaco Boris Johnson. Non lo so se bisogna passare a un'aspettacolarizzazione. mi sembra chiaro che i media del Regno Unito si occupino dei partiti del Regno Unito e se si occuperanno mai di qualcosa a livello nazionale, di qualcosa che riguarda gli italiani non penso che sia per far risaltare questo o quel partito. Bene, Dallanoce. Io vorrei sollevare Morabito, io ne capisco tutto l'imbarazzo che gli ha creato questa trasmissione che sembra l'abbia imputato di mancata nomina del responsabile, cosa che non è. E tu ovviamente sei nell'imbarazzo di poter dire quello che non è nella tua disponibilità. E mi rendo conto che poi la risposta sarebbe stata secca e poteva essere brevissima. In questo momento il PDL non ha ancora trovato un suo responsabile per gli italiani. Ecco perché non c'è. Credo che sia la risposta più... però non vorrei che questo dovesse cadere tutto sulle spalle di Morabito. Per cui voglio fare una domanda alla... Dobbiamo chiudere però. Domanda breve, risposta breve. Questa circoscrizione italiana all'estero ci sarà ancora alle prossime elezioni o non ci sarà? Più secca di così si muore. Se dipendesse da Eugenio Marino sì, ma siccome dipende molto... Ma si batterà Eugenio Marino? Assolutamente sì, lo sta già facendo. Siccome dipende dalle forze parlamentari e dai partiti, per quello che riguarda il mio partito posso assicurare che la circoscrizione estero continuerà ad esserci. Tant'è che tutte le bozze e le proposte di legge ufficiali del nostro partito, quelle che rappresentano la posizione del partito, mantengono la circoscrizione estero. Dalla bozza violante del 2007 alla attuale. E noi investiamo sugli italiani all'estero, investiamo in tutti i modi, quindi anche con la circoscrizione estero. Siamo in chiusura. Sì, perché lui ha messo un problema che è un problema di partite. Al volo, se questi italiani eletti all'estero, i senatori fossero quattro, come si farà per distribuirli equamente come appunto stavi cercando di affrontare tu prima nella discussione? È impossibile dirlo nei tempi in cui ci sono. Sicuramente bisognerà cambiare la legge. La legge è che per quanto ci riguarda il partito democratico utilizzerà in qualsiasi forma, verranno in letto, strumenti democratici, strumenti democratici per selezionarli. Dopodiché ricordo che la circoscrizione estero è stata introdotta con una modifica istituzionale nel 1998, quando c'erano i governi dell'Ulivo. Quindi noi l'abbiamo introdotta e noi ci battiamo per mantenerla. Benissimo, grazie. Abbiamo chiuso. Troverete, ripeto, tutto quello che ci avete mandato, le email, eccetera, su Facebook PD nel mondo. A giovedì prossimo. Grazie. Grazie.